Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai3 Report, è uno dei personaggi più attesi alla manifestazione di Evito in scena a Latina. L'appuntamento con il giornalista d'inchiesta è per oggi lunedì 29 aprile alle 18.30. Presenterà il suo ultimo libro La Scelta, edito da Bompiani. Modererà l'incontro il giornalista Antonio Bertizzolo. Come articolo 21 siamo felici di ospitare Ranucci a Latina perché è dal fiere di una grande tradizione di giornalismo d'inchiesta iniziata con Rai News, ha dichiarato Patrizia Migliozzi di articolo 21, soprattutto in un periodo in cui si agitano bavagli nei confronti della stampa e della Rai. Sappiamo come molte querele di cui lo stesso Ranucci è stato bersaglio siano finalizzate sempre più a limitare il campo d'azione dei giornalisti. Come articolo 21 siamo quindi al fianco di tutta la stampa minacciata e denunciata perché il numero che portiamo nel nome dell'articolo 21 della Costituzione è proprio la difesa della libertà d'espressione, del diritto di informare e di essere informati. La rassegna Lievito si svolge in diverse location di Latina, prevede oltre 30 appuntamenti tra spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e degustazioni, una sezione scientifica con conferenze tematiche e Lievito Kids, collaboratori e attività creative dedicate ai più piccoli, la cultura insomma come strumento di inclusione e partecipazione, come lievito che genera l'impasto, la cultura agisce come agente di trasformazione e unificazione.